Con Solindy dobbiamo muoverci super mega veloci, Fere in questo momento sta facendo fare una passeggiata a Nami e ne sto approfittando per registrare di nascosto questo video Voglio arrivare a un milione di supporta creator, lo so, lo so, è tantissimo ma siamo a circa la metà, si siamo a numeri impressionanti, lo so benissimo È tantissimo ma secondo me ci possiamo arrivare perché lei, Fere, è fermamente convinta che non si può fare Infatti per riuscirci so che devo mettere qualcosa in palio e se lei scopre che io dico questa cosa mi ammazza Questo è il motivo per cui sto facendo questo video di nascosto Infatti se entro domenica prossima, quindi sette giorni, tondi, 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 riusciamo ad arrivare a un milione di supporta creator Quindi probabilmente raddoppiamo il supporta creator che abbiamo in questo momento, mi faccio i capelli rosa E infatti sono con la sua sedia per questo motivo perché volevo farvi immaginare questo rosa della sedia di Fere nei miei capelli Non credo che mi stiano bene, proprio ne dubito fortemente, credo che lei mi ammazzi proprio totalmente Ne vero senza parola, forse mi mollerà Quindi i supporta creator fanno la mia unica consolazione perché verrò mollato Però ho deciso di fare questa cosa perché secondo me ci possiamo arrivare Ed è il momento giusto perché con la canzone siamo totalmente esplosi a livello di numero E quindi se c'è una chance di arrivare a un milione tondo è questo momento qua Quindi metto in palio i miei poveri capelli che già sono brutti di per sé perché non riesco mai a pettinare in modo decente eccetera eccetera Diventeranno ancora più brutti e niente spero di non pentirmene Spero un pochettino che non ci arriveremo però ci voglio provare E questo video uscirà in un momento in cui io e Fere staremo registrando così non si accorgeva di nulla E quando ormai sarà pubblico sarà troppo tardi per Fere per impedirmelo E di conseguenza credo che entro stasera io sarò morto però vi ho voluto bene Quindi grazie mille a tutti quelli che mi hanno seguito, grazie mille a tutti quelli che hanno fatto supporto a creator Siete stati fantastici però è giunta la mia fine In ogni caso a parte gli scherzi vediamo se ce la facciamo, vediamo se ci riusciamo Vediamo se riusciamo a rendermi rosa i capelli Suidettina, simpatica e leggera ovviamente giusto per scherzare per vedere se ce la facciamo Io sono super curioso E magari vi filmo anche la reazione di Fere quando scoprirà di questo video Vediamo se ci riesco perché magari capita che stiamo già registrando un altro video E di conseguenza puoi rivedere la notifica in tempo reale e possiamo vedere la sua faccia Vediamo se ci riesco non vi prometto nulla ma sarebbe divertente In ogni caso niente, spammate supporta creator, createvi account Andate a mettere supporta creator a palla dai vostri nonni, zii, cugini eccetera eccetera E vediamo se in 7 giorni ce la facciamo Ciao ciao